Perché sono sbagliate, secondo voi, le paure di chi dice no al MES? Perché ci dobbiamo fidare dell'Europa? È curioso che l'onere della prova aspetti a questo lato, comunque normalmente chi dice… Perché c'è lei oggi con noi! No, certo, ma lo dico nel dibattito generale, abbiamo un comunicato dell'Eurogruppo che parla molto chiaro, il Movimento 5 Stelle dice no, secondo me sono tutte balle, dimostratemi che non sono balle, che è un modo strano di ragionare, comunque facciamolo volentieri. A me sembra che le obiezioni siano, primo, non ci credo che non ci sono condizionalità e il comunicato parla chiaro, questa linea specifica del MES dice che c'è una condizionalità, cioè usare i soldi per le spese dirette e indirette legate alla sanità, dobbiamo capire se quelle indirette si nasconde la possibilità di fare anche spese diverse, ma questo andrebbe solo a nostro vantaggio. Poi mi sembra che dicono no, ma secondo me le condizionalità le mettono dopo, a parte che è un processo alle intenzioni, ma poi qualcuno mi deve spiegare se lei ha mai visto una condizionalità messa una volta che tu ti sei già preso i soldi. Normalmente la condizionalità si mette quando ci scambiamo cose, lei mi presta i soldi, io le do l'impegno a fare ABC. Una volta che lei me li ha prestati, e io li devo solo restituire secondo un piano prefissato, che condizionalità mi vuole mettere? E soprattutto che succede se io non le rispetto? Le sto pagando i soldi indietro, quindi proprio non si capisce se va a finire.